Come hai la vittoria? Con grande energia, con grande intelligenza, con grande determinazione per vincere la partita. Quindi è una partita che appena cali di intensità puoi perdere. Ma non la puoi perdere perché la squadra avversaria si è presentata senza i due giocatori americani. Noi stiamo infilando una serie di partite, la prossima sarà vero lì, veramente particolari. Siamo andati a Barcellona a Pozzo di Gotto dove c'erano strane percezioni. La situazione non sembrava chiarissima da quello che si leggeva dai giornali. Magari era tutto un niente come invece è stato, come grazie a Dio è stato e i ragazzi a Barcellona vanno avanti nel loro campionato. Abbiamo giocato a Forlì contro una squadra completa e poi contro Forlì tante squadre hanno giocato una partita diversa contro dei ragazzi under 19. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che si è presentata senza americani e da quello che abbiamo letto non credo per infortunio. E quindi è tutto molto strano. È tutto molto strano perché poi le motivazioni nostre per affrontare la partita sono sempre motivazioni sportive, sono sempre motivazioni incanalate in quello che è un normale campionato. Mentre in tutte queste partite abbiamo giocato contro squadre con motivazioni, difficoltà diverse e con momenti di grande difficoltà personale perché non dimentichiamoci, questi ragazzi non lo fanno per hobby, questi ragazzi giocano perché è il loro lavoro, perché di pallacanestro ci vivono e perché è la loro quotidianità. Quindi affrontare tutte le squadre dove si percepiscono e si sentono delle difficoltà e delle sofferenze da parte di giocatori avversari che poi sono dei ragazzi che conosciamo da quando sono bimbi, sono dei giocatori di cui abbiamo stima e sono anche molto spesso degli amici, ti mettono in una condizione di difficoltà. Quindi sinceramente faccio fatica a parlare della partita, sono contento perché l'abbiamo affrontata con il giusto atteggiamento, perché non siamo mai calati di intensità, perché abbiamo fatto anche delle buone cose. Sicuramente siamo una squadra ancora in crescita, una squadra tanto acerba, una squadra che deve ancora migliorare in molti aspetti del gioco, soprattutto offensivo e nelle scelte di tiro. Questo lo sappiamo e continuiamo a ripeterlo perché abbiamo tanti ragazzi non abituati ai grandi minutaggi, a grandi responsabilità e a giocare contro giocatori molto esperti, i quali ci sono in questa Lega. Oggi hanno giocato contro Ganeto, hanno giocato contro Allegretti, contro Berchic e Malaventura, scusate, che sono quattro super giocatori di grandissima esperienza, non solo in questo campionato ma anche in campionati superiori. E quindi per noi è sempre un momento importante per progredire. Dobbiamo ancora progredire molto, questo lo sappiamo, ci guardiamo ogni settimana dentro le nostre cose e cerchiamo di farle sempre meglio. Ora mi sembra, se non sbaglio, che abbiamo 14 punti, giusto Emil? Il 2014 andiamo a giocare una partita in trasferta che sarà una partita ancora non sappiamo di che tipo, perché in questo momento non si capisce che tipo di formazione allestirà per giocare la prima vera partita con, presumiamo, una nuova formazione contro di noi. E quindi sarà un grosso punto di domanda. Sarebbe interessantissimo poter, con tutto il rispetto degli avversari che allestiranno magari una squadra eccellente, sarebbe importantissimo fare due punti per provare a girare a 16 punti. Girare a 16 punti l'andata, avendo giocato anche la Coppa, avendo un roster di ragazzi giovani molto corto, ci piacerebbe moltissimo. Detto questo, se ci sono delle domande particolari... Sono su Lombardi, su Emilio e il Tato, ovviamente... Ma sì, diciamo due o tre settimane, ogni settimana è sempre meglio, ci sembra che il dolore compaia sempre di meno, anche nei contatti in allenamento, che ha sempre sofferto. Negli ultimi due settimane devo dire che sono sempre più rari i contatti dove fa smorfi importanti di dolori. Mi sembra che stia tornando ai livelli di inizio stagione, chiaramente ha perso un po' di fiducia, ha perso un po' di ritmo, ma questo era normale per un ragazzo giovane, in un nuovo ruolo che ha iniziato con un grande ritmo e poi è stato fermato e ha dovuto ricominciare un po' tutto da capo. Però lo aspettiamo, lo stiamo aspettando e lui sta dando dei buoni segnali. Il bilancio di quest'anno in generale... L'annata intendi... Ma obiettivamente pensando a come abbiamo costruito la squadra, le risorse a disposizione, quali erano gli obiettivi, il bilancio è più che positivo, poi è chiaro che quando sei dentro le vuoi vincere tutte e vuoi fare sempre meglio e fare sempre più punti e vincere più partite. Quindi un allenatore non è mai contento, soprattutto dopo una partita dove anche vinta vede gli aspetti da migliorare. L'annata è stata positiva dal punto di vista sportivo, sappiamo tutti perfettamente che abbiamo avuto un momento di grande difficoltà, abbiamo avuto una grande perdita e questo chiaramente ha sporcato tutta la nostra felicità. Nello stesso tempo questa cosa ci rimane dentro, ci rimane dentro nella sofferenza, ci rimane dentro nella difficoltà di affrontare ogni giorno con una palestra assente della persona a cui tutti noi eravamo affezionati, però poi giorno dopo giorno cerchiamo di fare nostre le cose positive che ci ha trasmesso. Quindi questo è un passaggio importante comunque di quest'annata che non è che va ricordato, ce l'abbiamo dentro tutti quanti. Ti aspetti, soprattutto quello che avete fatto nel giornale dell'andata, anche per aver voluto fare la Coppa, ti aspetti un giornale di ritorno increscendo, avversari permettendo, ti aspetti miglioramenti? Ma è chiaro che mi aspetto miglioramenti da parte dei giocatori, mi aspetto un qualcosa in crescendo, perché questa è l'aspettativa di ogni sportivo che affronta una partita o un campionato. Sinceramente non siamo così rapidi a progredire, perché abbiamo veramente tanti ragazzi acerbi, abbiamo tanti ragazzi in ruoli in cui non hanno mai giocato da protagonisti, perché abbiamo Eric in tre, abbiamo Nick che balla dal tre al due, abbiamo Tommy sempre in playmaker, sarebbe tutto molto più semplice, spostando la quintana in guardia, Nick in tre e quattro e Eric in tre e quattro, qualche volta in cinque, la squadra probabilmente avrebbe meno difficoltà e potrebbe decollare più facilmente. Però non è quello che vogliamo, noi non vogliamo guardare solo quest'annata, vogliamo guardare anche la prossima e vogliamo, rispettando le nostre risorse, con un progetto che abbiamo fatto nei prossimi ancora due anni di lavoro, provare a ritornare ad essere competitivi. Per essere ripetitivi i giocatori devono diventare giocatori di alto livello nei ruoli giusti. Poi ho sempre avuto questa mia peculiarità di spostare i giocatori nei ruoli in cui possano diventare grandi giocatori, se poi non ci si riesce si fa un passo indietro e quei giocatori affronteranno un altro tipo di carriera. Ma io voglio sempre dare quella possibilità per il più alto livello possibile, per il club e per il giocatore. È chiaro che nell'immediato non sempre paga, noi abbiamo un processo di apprendimento che non sarà rapidissimo, con questo le vogliamo vincere tutte, come diciamo sempre, non facciamo un passo indietro. Grazie. 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 Grazie.